Ehi, nonno! A San Patrizio non ti viene un po' di nostalgie dell'Irlanda? Bevi un po' d'acqua, Lolita! Ti senti meglio adesso? Spero che ti serva da lezione, il corallo non è un cibo adatto ai cani! È la casa di Topolino! Il baule dei maghi deve essere caricato sul treno delle 5.15. Fine. Antico proverbio cinese. E comunque che fine ha fatto quella macchina nuova? Non lo so e non lo voglio sapere, quella macchina era solo un guano! No, 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 no!